benvenuti al fantastico digital circus io sono che in il vostro direttore sono qui per sconvolgervi con il più sbalorditivo fermacuore frulla cervelli armamentario che abbiate mai visto non è vero ma ball proprio così che voglio vedere cosa è che voti il servo per oggi e non perdiamo altro tempo ecco che inizia lo spettacolo game chi è un altro dei tuoi mpc o è una nuova disperata perché se si tratta di un personaggio nuovo ci tocca ripare tutta la sigla da capo non se ne parla proprio accidenti sembra che un nuovo umano sia entrato nel nostro mondo come si toglie questo cosa continua così per noi sicuramente ha funzionato che sta succedendo io ho messo uno strano visore e ora sono qui chi siete voi perché non riesco a toglierlo dove mi trovo cerca di calmarti andrà tutto bene novellina tutti ci siamo passati devi solo cercare di ma che c***o sta succedendo cosa no 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 mia cara non usiamo quel linguaggio scurrile da queste parti il fantastico circo digitale è un luogo adatto a tutte le età tu amica mia ti sei imbattuta in un incredibile mondo di meraviglie dove tutto può succedere tramite le parolacce oh mio dio beh come faccio ad andarmi beh non per spaventarti o cose così ma lui in realtà non puoi cosa stai zitto jex però sì ha ragione benvenuta nella tua nuova casa e nel tuo nuovo corpo nuova casa che cosa intendi ragazzi non fate siamo bloccati qui da anni si dice che sia il vecchio king era ad essere qui da più a lungo qualcuno ha detto qualcosa riguardo una collezione di insetti ecco perché è pazzo ok adesso ho capito questo è solo un sogno quindi dovrei stare al gioco finché non mi sveglio giusto come vuoi tappetta hanno rotto la maschera da commedia quindi che ci sarà un'avventura per la nuova arrivata o cosa preferirei prima far fare al nostro nuovo membro un tour nel parco del circo si parte qui abbiamo la tenda è qui che si trovano i vostri alloggi così come ogni sorta di altre attività queste attività includono palline mini golf e altro ancora e qui abbiamo i parchi annega nel lago digitale o divertiti con le attrazioni della fiera digitale notte giorno tutto è ok la scelta è tua proprio come un buffet tutto ma certo che questo è il vuoto noi non andiamo mai nel vuoto nemmeno io so cosa c'è là fuori noi viviamo qui dove posso tenervi sotto controllo con i miei centinaia d'occhi ciao che ti amo andiamo cene da qui prima che la luna si faccia strane idee aspetta cos'è wow qualcuno pulisca il corridoio ci penso io capo perché sei così aspetta aspetta ho visto una porta d'uscita là fuori potremmo andarcene ma quale uscita se ci fosse stata saremmo già stati tutti altrove adesso e infatti ma che cavolo dici ti assicuro che non esiste una magica porta per andarsene probabilmente stai avendo allucinazioni digitali per la transizione della tua mente al piano digitale ma giuro che ho visto allucinazioni digitali che ne dici se parliamo di qualcos'altro come il tuo nome nome? il mio nome è... oh mio dio perché non riesco a ricordarmi il mio nome? nessuno ricorda il proprio nome una volta entrato nel circo digitale tra le poche cose su cui non ho il controllo ci sono le vostre menti quindi ciò che posso fare è inventarvene uno nuovo come mi chiamo? non tormentare la tua testolina il tuo nuovo nome può essere qualsiasi cosa che te ne pare? va bene tutto credo vediamo un po' ti piace? hai ragione è orrendo riproviamo che ne pensi di pomni? eh? eh...sì penso vada... perbaccolina Jax hai proprio ragione dovremmo organizzare una nuova avventura per pomni l'ho detto 5 minuti fa ti piace l'avventura? attività? meraviglie? pericolo? orrore? dolore? super antagonia? morte? morte? mandi spagna? parassita! io non... dato che sei nuova da queste parti sarà solo una semplice avventura interna per farti capire come funzionano le cose qui cosa? ma... io non voglio un'avventura in chiuso tranquilla Zubol inventerò qualcosa in cui potrai scegliere di non partecipare l'avventura di oggi è... acchiappa i glowings proprio così l'intero tendone ora pullula di glowings e tu dovrai catturarli tutti ma che cosa sono? lieto che tu me l'abbia chiesto Bubble sono dei... e che cosa fanno? beh... loro vanno... i glowings sono piccole creature rispettose che rubano qualsiasi cosa in cui si imbattono perché queste patatine ambulanti fanno questo? come fermarli? sta a voi scoprirlo buona fortuna e buon divertimento mie piccole star che cosa dovrebbe significare? è solo una delle piccole avventure di Kane sono solo cose divertenti da fare per... sai? impedirci di... impazzire parla per te se qualcuno mi cerca andate a f*** oddio cavolo no oddio qualcuno mi aiuti oh no hanno ucciso Zubon comunque ragazzi prendiamo da mangiare? aspetta dovremmo controllare come sta Kofmo e sono sicura che gli piacerebbe conoscere Povni la mia fortezza è impenetrabile! ti va di venire con noi a vedere come sta Kofmo? no non molto in realtà credo che Kofmo sia impazzito l'ultima volta che gli ho parlato ci parlava di una qualche sorta d'uscita un po' come te Povni forse stai impazzendo anche tu ma... aspetta non significherebbe più probabilmente che l'uscita esiste o forse potrebbe significare che hai qualche rotella fuori posto cosa facciamo con Zubon? beh... penso che mi piacerebbe provare a chiederglielo... se fosse tutto reale cosa che non è perchè è solo un sogno pensa ancora che sia un sogno perchè mi guardi così? va bene qualsiasi cosa purché possa vedere gli altri rendersi ridicoli ok inizio ad averne abbastanza tu, io e Pony andremo a controllare Kofmo mentre Frignona e Scacco Matto si occuperanno di Zubol insieme sei sicuro che metterli insieme sia una buona idea? si ma certo tra di noi sono chiaramente loro ad essere i più mentalmente stabili forza signorine andiamo a molestare il clown la mia maschera da commedia si è rotta di nuovo Gangol mi hai spaventato è qui che viviamo tutti o meglio dove dormiamo la notte anche se non è che abbiamo bisogno di dormire è solo che a volte è bello prendersi una pausa da tutto e avere un po' di routine sai? sono sicura che ce ne sia una anche per ecco la tua stanza io ancora non riesco a capirci niente la cosa delle avventure perchè ostinarsi a partecipare lo stesso? perchè non concentrarsi sul trovare un modo per andarsene? beh anche noi abbiamo fatto così da appena arrivati ma dopo un po' inizi a capire che andare via di qui è impossibile mirare a un obiettivo irraggiungibile ti porterà sull'orlo della pazzia e alla fine ti chiedi quale sia lo scopo di tutto perdi il senso delle cose la tua identità se si arriva al punto di rottura può succedere qualcosa di terribile oh beh non è una cosa di cui dobbiamo preoccuparci oggi per risponderti le avventure ci danno qualcosa da fare per mantenerci sani e stimolati meno male che questo è solo un sogno vero Pommy? perchè siamo qui? che stiamo facendo? ti presentiamo un amico forse non è in casa spero stia bene non preoccuparti bambolina ho io la chiave cosa? aspetta perché? tu non dovresti avere la chiave della stanza di nessuno no no ho chiavi dappertutto e mi sembra che stiate tutti bene tra l'altro potrei aver lasciato una sorpresa nella tua stanza dimmi se la trovi non hai paura dei mille piedi vero? Zex è letteralmente la mia unica fobia perchè diamine? rilassati potrebbe essere una domanda del tutto non correlata non pensarci troppo oh la mia palla da bowling grazie per avermela tenuta al caldo ciao oh Kofmo si è estratiggiato ok cos'è quello? potrebbe essere quella cosa terribile di cui parlavo prima il punto di rottura ok ok forse possiamo ancora salvarlo ci serve Kane ah oh Kofmo senti so che non siamo sempre nati d'accordo come quando mi eri impreverato per non aver riso alle tue battute lo giuro facevano ridere stavo solo un po' giù in quel momento ehi bambini poi bambini io capisco se se si scusa non posso oh oh ah oh ah ah Ma cosa diavolo è? Un Gloing che è entrato qui dentro portandosi un pezzo di Zubal, ricordi? Oh, sì, grazie per il recap. Non credi che forse non siamo tagliati per questo? Salve! Ragazzi! Jax! Abbiamo trovato il buco! Fico! Come sta Kofno? Spero non sia ancora arrabbiato con me per non aver visto i suoi scherzi! Ah, lui sta benissimo! Infatti, non credo di averlo mai visto così prima d'ora. Beh, è bello vedere che non ha completamente perso la testa! In realtà mi ha chiesto di darti questo. Ah! 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 Una collezione di insetti! Credo sia un nido. Ehi! Ragata? Era quello il tuo nome, giusto? Sì, sì, sì! Sono qui! Ehi! Ecco! Non... Non volevo abbandonarti così! È che... La mia mano... Io... Non sapevo cosa fare... È tutto ok... Quello che deve fare è trovare Gain... Lui mi aggiusterà e sistemerà anche Combo... Ok... E dove posso trovarlo? Non sapevi... Penso sia da queste parti... Chiamalo... Ok... Lo cercherò... Tu invece resta qui... Non che tu possa fare altro... Tu resisti... Tornerò subito... Promesso! Dico... Anzi... Pombi... Mi dispiace che il tuo primo giorno qui sia stato così... Terribile... Sì... Beh... Non preoccuparti... Adesso io... Vado a cercare... Cain... Cain! 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 Non c'è un problema qui! Cain! Cain! Oh, quindi sei la regina? No, perché avresti potuto chiedermi il permesso prima di mostrarmi uno spettacolo così indecente. Beh, anch'io sono un reale da parte di mamma. Vorrei chiederti se... Oh, guarda, c'è Zubon. Ciao, Zubon. Aiutatemi, stupidi idioti. Un po' scortese, Zubon. Ora non voglio più aiutarti. Oh, perdo Sam. Sì! Presa! Oh! Ehi! King erpiglio di fu... Eh, starà bene. Nasconditi, nasconditi, nasconditi! Ehi! Ehi! Andiamo dove è Kain? Andiamo! Tutto ciò è patetico. Non sono qui per l'avventura o altro, mi sto solo nascondendo da... Oh, grazie a Dio, stai bene. Non hai giocato a un quiz di Jerry Scotti là dentro, vero? Io... di cosa stai parlando? Che sta succedendo? È solo Cofflo, non preoccuparti. Cofflo, è un tratto! No, sta bene. Hai ragione, come usciamo da qui? Ragazzi, di là. Prima le signore... ma che dico, levati. Aspetta, quella Pony non c'è! Questa avventura non era mica per lei! Silenzio, non sento le scale mobili. Questa avventura non è un capitale, le bellissimeiran��ismo! Pony! Ah! Ah! Sì. 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 Oh, Bubble! Sai sempre come farmi dire questa esatta frase! Gasp! Un avviso sul mio stravagante orologio? Oh no! Qualcuno si è avventurato nel vuoto! Si spoilererà tutto! Ecco fatto! Ora, cosa diavolo è successo qui? Oh, giusto! Opera mia! Cain! Caffmo è andato in Caffmosi e si è Caffmatizzato! Caffmo è astratto? Perché nessuno me l'ha detto? E tu te ne vai in cantina? Caffmo! Caffmo! Non posso credere che Caffmo si sia reso così! Senza offesa, Kinger, ma pensavo saresti stato tu il prossimo! Grazie! E ciò dimostra che non si può fare mai affidamento su Kinger! Io sto malissimo! Oh! Immagino di dovermi scusare per aver mentito sull'uscita! Sapevo quanto tutti voi ne desideravate una, ma ecco... Non sapevo davvero che cosa mettere dall'altra parte e... Non ho mai finito per ultimare quel livello! E... Sapete, non è che mi piace spoilerare i miei lavori non terminati alla gente! Soprattutto se c'è il rischio di cadere nel vuoto! Ad ogni modo sembra che abbiate completato l'avventura e avete sconfitto la regina! La vostra ricompensa è un delizioso banchetto cucinato dallo Chef Bubble! L'ho fatto con tutto l'amore che mi ha legalmente... In effetti ho un languorino! Ma non hai fatto niente! E allora? Non posso avere fame? Beh, non proprio! Perché non abbiamo bisogno di mangiare, bere o dormire in questo mondo digitale! Ricorda soltanto vagamente la sensazione del cibo vero senza alcun beneficio nutrizionale! Ah, lascia perdere! Da quando è che sei un esperto sul mondo digitale? Esperto di cosa? Ho lettozza aqui! Voi con un semplice! Ho, ho. Voi con un semplice! Tante Introducciviare il nostro canale! Tante questa partita! È un sempliceuso poichita! No! Esco! Si oscolti un semplice! Tante questa partita? Tante questa partita, Grazie a tutti.